buongiorno e benvenuti a almeno per quanto mi riguarda all'ultimo video di quest'anno di questo corso di tecniche di programmazione come detto in precedenza in queste ultime lezioni cerchiamo di andare a risolvere i temi d'esame recenti quindi dello scorso dello scorso anno se vi ricordate bene durante il corso però abbiamo già risolto un tema d'esame dello scorso anno questo qui denver crimes è il tema d'esame ricorsivo sul db denver crimes quindi al posto di questo che abbiamo già fatto oggi ho pensato di risolvere insieme la simulazione d'esame che abbiamo fatto lo scorso anno sempre sullo stesso db quindi trovate il progetto base convertito in jdk 11 in tdp esami eccolo qui c'è il suffisso simulazione proprio perché questa che andiamo a risolvere era una simulazione d'esame che abbiamo fatto lo scorso anno andiamo a vedere insieme il il testo di questa simulazione come detto si utilizzava il db denver crimes che abbiamo già usato quest'anno db che riporta una serie di 300 mila eventi criminosi nella città di denver il db è molto semplice come struttura perché abbiamo un'unica tabella events con diverse indicazioni su un determinato crimine avvenuto nella città di denver dunque nel partiamo dal primo punto si chiedeva di permettere all'utente di selezionare un anno dal di quelli presenti nel database e alla pressione del bottone rete cittadina occorreva costruire un grafo pesato non orientato che connettesse sette vertici ciascuno corrispondente ad uno dei distretti di denver campo district id quindi già qui nel testo capiamo che i vertici di questo grafo sono veramente limitati abbiamo già il numero di questi vertici sono sette per ogni distretto occorreva considerare tutti gli eventi dell'anno selezionato tutti i crimini di quell'anno e usando due attributi di questi crimini dati dai campi geolon e geolat occorreva usare questi due campi per calcolare il centro geografico dei crimini di ogni distretto quindi considerando per un dato distretto tutti i crimini avvenuti in quell'anno occorreva calcolare la media il centro geografico facendo semplicemente la media delle latitudini e longitudini dei vari crimini e si poteva utilizzare per poi calcolare l'effettivo centro la libreria simple let long che era già che è già inclusa nel nel progetto base vedremo come come fare quindi ogni coppia di distretti sarà collegata da un arco il cui peso è pari alla distanza tra i centri dei due distretti connessi distanza espressa in chilometri appunto per calcolare tale distanza si deve far si può far uso della libreria simple let long l'ultimo l'ultima parte del punto 1 richiedeva di visualizzare per ciascuno dei sette distretti l'elenco degli adiacenti ordinati in base alla distanza crescente ok direi di partire con il punto 1 e poi vedremo dopo il punto 2 allora quindi apriamo eclipse la prima cosa da fare un po' noiosa ma la dobbiamo fare è permettere all'utente di selezionare un anno dalla tendina banalmente dobbiamo andarci a recuperare dal database dalla tabella events tutti gli anni presenti nel modellati nel nel database quindi facendo semplicemente una select distinct del campo reported date ma non di tutta la data ma solamente dell'anno quindi con la funzione year di sql va bene abbastanza facile mi pare l'avessimo già fatto forse per i mesi nel nell'esercizio che abbiamo svolto durante l'anno quindi apro il mio dao e mi predispongo una query per recuperarmi tutti gli anni quindi sarà una metodo che restituirà una lista di direi integer get anni in cui la query è molto semplice select ovviamente distinct di che cosa non solo di reported date ma di year di reported date quindi con la funzione year andiamo a estrarci l'anno dei dei vari delle varie report date e poi prendiamo i valori distinti la distinct non per la distinct non serve la parentesi quindi distinct year di reported date possiamo anche rinominarlo per semplicità as an anno from events questa è la nostra query e andiamo a sviluppare il solito pattern di programmazione quindi avremo una lista di integer di supporto per contenere il nostro risultato chiamiamola result poi il nostro try catch nel try catch ci facciamo dare copio da sopra la connessione creiamo il prepare statement non abbiamo da settare nessun parametro e quindi eseguiamo direttamente la query finché ci sarà un risultato while res.next andiamo a estrarre il risultato e a metterlo nella nostra lista result.add res.getint anno prima di ritornare la nostra lista mi ricordo di chiudere la connessione e poi posso ritornare la mia lista result se per caso capita qualche problema ritorno nullo ottimo saliamo di un livello andiamo nel model creiamo il nostro metodo che si interfacci al dao magari creiamo il dao come istanza di classe quindi come attributo della classe model il dao si chiama events dao di questo dao ne andiamo a fare la new nel costruttore del modello importiamo un po' di cose ok parentesi e creiamo il nostro metodo che si vada a interfacciare al dao per recuperare gli anni return dis.dao.getanni importiamo list e possiamo usare adesso questo metodo dal nostro controller in modo tale che quando la l'applicazione viene lanciata la tendina si riempia dinamicamente con gli anni quindi la combo box anni conterrà degli interi perfetto e quindi andiamo a dire box anno punto get items punto add all this punto model punto get anni volendo fare le cose per bene magari possiamo anche ordinare questa lista quindi andiamo nel modello e prima di ritornare la lista l'andiamo a salvare in una variabile anni che poi ritorneremo e prima di ritornarla però la ordiniamo quindi collections punto sort ops anni ottimo ora concentriamoci sulla creazione del grafo quindi la parte più complicata del punto 1 avremmo il nostro solito metodo public void crea grafo crea grafo ovviamente riceverà in input come parametro l'anno selezionato dall'utente quindi integer anno allora qui si può fare subito una considerazione la considerazione è che il numero di vertici è molto limitato ce lo dice già il testo avremo sicuramente 7 7 vertici quindi questo mi fa propendere per utilizzare un approccio molto semplice un approccio in cui facciamo un doppio ciclo for sui vertici per aggiungere gli archi direi che possiamo evitare la query enorme che ci dia direttamente tutte le informazioni come facciamo di solito proprio perché qui abbiamo 7 vertici sono pochissimi e un ciclo for un doppio ciclo for non influisce sulle sulle performance quindi sicuramente prevederò nel mio dao innanzitutto un metodo che mi restituisca i vertici che sono sostanzialmente tutti i distretti se vogliamo essere precisi possiamo recuperarci tutti i distretti per cui ci sono degli eventi criminosi nel determinato anno selezionato dall'utente in realtà bene o male saranno sempre 7 anche considerando andando a vedere i dati riposti nel db quindi oltre al metodo getanni avrò un metodo public che mi restituisca i vertici allora cosa saranno questi vertici beh sono dei distretti andiamo a vedere la struttura del db distretti che si recuperano dal campo district id che è un intero quindi i vertici del grafo saranno degli interi molto semplice non ci serve nemmeno fare l'identity map siamo sicuri che tutto funzionerà bene quindi prevediamo un metodo public list integer get vertici come detto se vogliamo possiamo anche passare come parametro l'anno ma visto che il testo ci dice poi esplicitamente che i vertici sono tutti i sette distretti va bene prendiamoli tutti indipendentemente dall'anno selezionato quindi select distinct di che cosa del campo district id as chiamiamolo vertice from events query facilissima anche qui la lista di appoggio sarà una lista di interi e quindi il pattern sarà praticamente lo stesso della query che abbiamo appena fatto sopra copio incollo devo solo fare attenzione a cambiare anno con vertice oh perfetto quindi ho la mia lista di vertici vado nel modello magari questa lista di vertici la salvo come attributo della classe model potrebbe servirmi in seguito questi vertici li vado a riempire quando l'utente clicca su crea grafo quindi vertici uguale dis.dao.get vertici e vado ad aggiungerli al mio grafo grafo che non ho ancora quindi lo devo andare a creare benissimo definiamolo qui come attributo della classe graph abbiamo detto i vertici saranno degli interi il grafo è pesato quindi avremo dei default weighted edge importiamo un po' di cose bene e andiamo ad aggiungere i nostri vertici al grafo quindi graphs punto add all vertices dove nel mio grafo dis.grafo chi sono i vertici quelli che ho appena recuperato vertici ovviamente attenzione bene non ho ancora fatto la new del grafo quindi se io lanciassi il mio programma adesso trae una bella null pointer exception quindi prima di aggiungere i vertici devo fare la new del grafo grafo uguale new è un grafo non orientato quindi simple weighted graph integer default weighted edge default weighted edge punto class importiamo e abbiamo i nostri vertici nel nostro grafo benissimo come detto questi vertici saranno sicuramente 7 facciamo il doppio ciclo for anche perché dobbiamo fare alcuni calcoli poi per inserire i gli archi e soprattutto il peso tra due distretti dobbiamo calcolare la latitudine e la longitudine media dobbiamo usare la libreria lat long per calcolare la distanza quindi fare tutto in una query risulterebbe anche abbastanza complicato molto più semplice fare il doppio ciclo for sui vertici quindi for integer v1 in this punto grafo punto vertex set for integer v2 in this punto grafo punto vertex set ripeto fino alla nausea questo questo pattern di programmazione il doppio ciclo for sui vertici quindi considero tutte le coppie e poi per ogni coppia vado a vedere se c'è o meno l'arco e a settare il peso funziona solo se abbiamo un numero limitato di vertici altrimenti il nostro programma non arriva mai a terminare in un tempo ragionevole allora possiamo ancora filtrare e chiederci if ovviamente not v1 punto equals v2 quindi ovviamente aggiungerò un arco solo se i due vertici sono diversi uso equals senza nessun problema perché i vertici sono degli integer e poi posso ancora considerare visto che è un grafo non orientato posso ancora chiedermi se c'è già o meno l'arco perché se c'è già non lo vado più aggiungere quindi if this punto grafo punto get edge tra v1 e v2 è uguale uguale a null vorrà dire che dovrò aggiungere l'arco altrimenti no se è uguale uguale a null lo aggiungerò per forza l'arco perché il grafo è fortemente connesso cioè tutti sono connessi a tutti oh ottimo cosa devo fare per connettere v1 e v2 se sono arrivato a questo punto qui allora devo connettere v1 e v2 con un arco il cui peso sia la distanza media tra i centri geografici dei crimini che sono avvenuti nei due distretti ovviamente nell'anno selezionato dal dall'utente quindi avrò sostanzialmente due coppie di valori latitudine media del vertice 1 e latitudine media del vertice v2 e longitudine media del vertice v1 e longitudine media del vertice v2 avrò queste due coppie di informazioni e poi potrò con queste due informazioni potrò calcolarmi la distanza media quindi sostanzialmente avrò dei double latmedia v1 che sarà la recupererò dal dow dow punto get latmedia supponiamo di avere questo metodo qui che poi andremo a creare che parametri riceverà questo metodo beh sicuramente l'anno selezionato dall'utente e il vertice avremo poi lo stesso useremo poi lo stesso metodo per recuperarci la latitudine la latitudine media di v2 scusate prima ho scritto v2 al posto di v1 ok questo per la latitudine ovviamente faremo lo stesso per la longitudine ovviamente io ho deciso di provare una soluzione molto semplice in cui ho due metodi distinti per recuperarmi la latitudine e la longitudine ovviamente si potrebbero recuperare tutte e due insieme avendo una classe di supporto per contenere allo stesso tempo sia la latitudine che la longitudine per me è più facile più veloce avere due funzioni diverse che restituiscano direttamente un numero che si possa utilizzare ma ovviamente è una scelta considerate anche il tempo e quindi cercate sempre di scegliere la soluzione più facile e più veloce soprattutto ok dati questi due coppie di valori possiamo usare la libreria già inclusa nel progetto per calcolare la distanza media tra i due centri geografici potete andarvi a vedere la documentazione di tale libreria ma io posso già impostare il risultato che vogliamo ottenere quindi avremo un double distanza media che sarà uguale a la mia libreria lat lng tool punto distance vedete che il metodo distance ci permette di avere una distanza media dati due punti punti che sono definiti dalla classe lat long e punti che ovviamente conterranno sia la latitudine che la longitudine e il metodo stesso permette di definire anche un'unità che da testo deve essere chilometri utilizziamo questo metodo creiamo i due punti i due oggetti lat long quindi il primo lat lng a cui passiamo latitudine media di v1 e longitudine media di v1 quindi quindi questa classe ha un costruttore a cui si possono passare due valori una latitudine e una longitudine quindi questo sarà il punto relativo a v1 il centro di v1 facciamo la stessa cosa per v2 quindi new lat lng lat media v2 virgola lat media long media scusate v2 ok possiamo poi passargli l'unità di misura che abbiamo detto essere chilometri length unit punto chilometro vogliamo importare questa classe l'ho scritta sbagliata sì perché l'h va al fondo ovviamente tutte queste classi potete controllarle sulla documentazione di questa libreria che è anche linkata nel pdf ok abbiamo la distanza media che in sostanza è il peso dell'arco vado ad aggiungere l'arco associandone il peso graphs punto add edge width vertices dove dis punto grafo qual è il nodo sorgente v1 qual è il nodo target v2 qual è il peso distanza media ok al fondo di questi due cicli for ho il mio grafo creato quindi possiamo stampare il numero di vertici e il numero di archi creati questi valori ovviamente saranno fissi perché abbiamo sette vertici tutti connessi però per sicurezza possiamo vedere di aver fatto giusto o sbagliato quindi system punto out punto print line grafo creato e poi stampiamo le dimensioni n vertici due punti virgola dis punto a più scusate dis punto grafo punto vertex set punto size e stessa cosa lo facciamo per gli archi edge set adesso ci mancano solo più due metodi che sono questi che abbiamo immaginato qui per ottenere la latitudine media e la longitudine media facciamoceli creare nel dao 1 poi torno un attimo qui e creo quello per la longitudine allora anche qui è abbastanza facile trovare la latitudine e la longitudine media perché è semplicemente una select con una funzione di aggregazione che è avg per calcolare la media delle latitudini di un determinato distretto per un determinato anno quindi vedete dividendo le query potendo implementare l'approccio base del doppio ciclo for sui vertici le query diventano praticamente banali quindi partiamo dalla latitudine string sql non dobbiamo nemmeno farla su sul client perché è molto facile select avg di che cosa del campo relativo alla attitudine andiamo a vedere come si chiama geolat benissimo as lat from la tabella è sempre la stessa events dobbiamo solo stare attenti a definire le clausole di where clausole di where che riguardano l'anno e il vertice quindi where year di reported date è uguale a punto interrogativo and district id è uguale a punto interrogativo perfetto qui sarà un double quindi non abbiamo bisogno di nessuna lista di supporto definiamo direttamente il try e il catch che copio da qua sopra creo la connessione creo il mi faccio dare la connessione creo il prepare statement qui dobbiamo impostare i parametri quindi abbiamo un primo set int per l'anno uno virgola anno e un secondo set int per il distretto due virgola magari chiamiamo integer questo parametro con un nome un po' più furbo district oh perfetto eseguo la query qui ovviamente essendo una media avremo un solo valore quindi è inutile usare il while if res.next e ragionevolmente un risultato ci sarà posso direttamente ritornare return res.get double di lat attenzione però prima di fare la return sempre la con.close ora siamo ragionevolmente sicuri che ricadremo in questa in questa if ma affinché il compilatore non si arrabbi dobbiamo anche definire l'else quindi se non c'è risultato ritorniamo null ovviamente sempre prima chiudendo la connessione ok questo metodo possiamo copiarlo pari pari per la longitudine andremo solo a cambiare il campo nella query geo lon qui sarà district vedete che vabbè avrò definito qualche metodo in più nel DAO ma le query sono veramente facili e questi metodi si possono anche copiare e incollare quindi non è che abbiamo perso tempo anzi probabilmente ne abbiamo guadagnato ok possiamo provare a creare questo benedetto grafo andiamo a collegare il metodo crea grafo al controller quindi nel controller e in particolare nel metodo do crea rete cittadina andiamo a prenderci l'input dell'utente integer anno uguale definiamolo prima null e poi nel nostro solito try catch ah no in realtà qui non è un non abbiamo un input testuale dell'utente ma l'utente lo seleziona direttamente dalla tendina quindi non si può sbagliare box anno punto get value l'unico controllo errore che possiamo fare è se anno è uguale a null quindi se l'utente non ha proprio selezionato l'anno quindi if anno uguale uguale a null stampiamo un bel messaggio di errore punto append text seleziona un anno e ovviamente facciamo una return se invece l'utente ha selezionato l'anno possiamo richiamare this punto model punto crea grafo this punto txt result punto append text grafo creato magari mettiamo anche una clear all'inizio ok vediamo se tutto funziona vado sul main lancio il mio programma non sembrano esserci errori vediamo la tendina contiene gli anni ordinati proviamo 2015 rete cittadina e ovviamente ci sono dei problemi classico andiamo a vedere di cosa si tratta c'è una null pointer exception in model quindi probabilmente uno di questi valori o se non tutti è nullo andiamo a vedere le eccezioni superiori eccola qua il problema non conosce la colonna pinco pallo vuol dire che ho sbagliato a scrivere la colonna nella query semplicemente infatti ho scritto district in modo sbagliato va benissimo andiamo nel dao e correggiamo ecco qua il problema districiti ok copio anche nell'altro metodo e dovremmo esserci riproviamo lanciare grafo creato ci ha messo un po' perché abbiamo fatto il doppio ciclo doppio ciclo for abbiamo fatto le query per recuperarci latitudine e longitudine ma comunque nell'ordine dei secondi siamo arrivati a conclusione ok andiamo a vedere cosa chiedeva l'ultima parte di questo primo punto stampare tutti e sette distretti con l'elenco degli adiacenti ordinati in base alla distanza crescente come possiamo fare beh potremmo immaginare di avere nel nel modello un metodo che ci restituisca dato un distretto l'elenco ordinato dei vicini e poi dal controller per ogni nodo presente nel grafo andiamo a recuperarci tramite questo metodo i vicini e semplicemente li stampiamo quindi nel mio modello posso introdurre un metodo public list ovviamente abbiamo bisogno di due informazioni sia l'id del vicino ma anche la sua distanza quindi ragionevolmente avremo bisogno di una nuova classe ok per estrarre queste informazioni chiamiamola vicino get vicini vicini a partire ovviamente da un determinato distretto integer distretto allora creiamoci un attimo questa questa classe vicino direi nel package model cosa avrà questa classe beh sicuramente l'id nel vicino private integer vicino ma anche abbiamo detto la sua distanza media quindi private double distanza al solito usiamo eclipse per farci generare quello che ci serve i get resetter il costruttore ma anche direi dobbiamo implementare comparable su questa classe perché vogliamo restituire una lista ordinata di vicini quindi implements comparable vicino ovviamente dobbiamo andare a implementare i compar2 faremo un confronto sulla distanza che è un attributo modellato dalla classe double già presente in java quindi tanto vale riutilizzare compar2 di double quindi this punto distanza punto compare2 o punto get distanza allora adesso andiamo nel model e ci creiamo questa lista di vicini che poi ritorneremo come facciamo a recuperare i vicini dato il distretto con il relativo peso beh il primo passo è sicuramente andarci a prendere i distretti vicini quindi gli id dei vicini grazie alla classe graphs e al metodo in particolare neighbor list of quindi avremo una lista di integer chiamiamola neighbors oppure vicini id uguale graphs punto neighbor list list of this punto grafo e qual è il vertice di partenza quello che l'utente in realtà non l'utente ma quello che ricevo dal controller perché questo metodo lo useremo per tutti i vertici del grafo dati gli id che abbiamo recuperato allora posso andarmi a recuperare anche il peso andandolo a prendere dall'arco che collega il mio distretto con ognuno dei vicini che ho in questa lista quindi for integer v in vicini id posso direttamente fare tutto in un'unica linea di codice vicini punto add new vicino dove l'id è v e il peso lo recupero dal dall'edge quindi this punto grafo punto get edge weight dobbiamo dirgli qual è l'arco quindi this punto grafo punto get edge tra chi tra il mio distretto e v è un po' macchinoso ma è l'unico modo che la libreria ci offre per recuperare questa informazione quindi scusate dobbiamo usare il get edge weight e poi il get edge all'interno prima di ritornare abbiamo definito il compare to apposta ordino questi vicini collections punto sort vicini sempre tutte le volte mi trasforma la sorta in un modo strano vicini dovremmo avere tutto colleghiamo al controller quindi vado sul controller e oltre a stampare grafo creato direttamente qui posso utilizzare il metodo che abbiamo appena fatto metodo che però dobbiamo richiamare per ogni vertice del grafo perché vogliamo stampare queste informazioni per tutti al momento però non ho nessun modo di recuperare questa informazione di chi sono i vertici del mio grafo va bene ce lo faremo dire dal modello quindi for supponiamo di poterlo fare integer di dis punto model punto get distretti o get vertici così è più chiaro dopo andremo a creare questo questo metodo dato il singolo vertice ne recuperiamo i vicini list vicino vicini uguale dis punto model punto get vicini dd e poi li andiamo a stampare quindi txt result punto append text slash n slash n vicini del distretto due punti più d e facciamo magari un ciclo for sulla lista di vicini per stamparli in modo un po' formattato quindi quindi for vicino di in vicini txt result punto append text possiamo andare a capo oppure no diciamo così diciamo così v punto get vicino più uno spazio più il peso quindi la distanza e poi magari andiamo a capo così ne abbiamo uno per riga andiamo a importare un po' di cose e soprattutto dobbiamo creare questo metodo nel model per restituirci i vertici del grafo ovviamente ovviamente sarà non un object ma potrebbe essere un set così possiamo ritornare direttamente dis punto grafo punto vertex set facciamo una prova dovremmo essere alla fine del punto uno quindi se tutto va bene ci siamo guadagnati un 21 vediamo un po' 2015 ok sì direi che ci siamo ho dimenticato solo una capo quindi vicini del distretto 61 poi dovrei andare dovrei andare a capo vediamo se ce ne sono 7 1 2 3 4 5 6 7 i 7 vertici con la lista ordinata dei vicini sì non vicino 61 ma ovviamente questo è distretto 6 e a capo avremo il vicino con i d1 e il relativo peso ho dimenticato quindi solo la capo qui dopo di ottimo direi che il 21 ce lo siamo guadagnati procediamo e andiamo a vedere il punto 2 che era una simulazione dunque vediamo la richiesta si permette all'utente di selezionare una data quindi compreso il giorno e il mese oltre all'anno già già considerato nel punto 1 e si permette lo stesso utente di inserire un numero n compreso tra 1 e 10 di agenti di polizia disponibili si vuole valutare il numero n di agenti utili a gestire gli eventi criminosi di denver tramite una loro simulazione una simulazione degli spostamenti di questi agenti durante la giornata selezionata quindi si deve ipotizzare che la centrale di polizia sia nel distretto a minor criminalità dell'anno in corso quindi già questo è un primo vincolo da implementare e bisogna anche considerare che tutti gli agenti siano originariamente in centrale al momento del primo evento del giorno al verificarsi di un evento criminoso questi eventi vanno ovviamente ordinati per reporting date la centrale sceglie l'agente da inviare sul posto e come lo seleziona prendendo l'agente libero più vicino al crimine ciascun agente libero si muove a una velocità costante di 60 km orari tenendo ovviamente conto delle distanze tra i distretti calcolati nel punto 1 quindi usiamo i pesi del grafo il tempo necessario a gestire un evento una volta che l'agente è arrivato sul posto è con uguale probabilità quindi con una probabilità del 50% di una o due ore se il tipo di evento è questo qui mentre il tempo necessario a gestire tutti gli altri tipi di reato è di due ore quindi dobbiamo fare attenzione a simulare questo tempo con una probabilità una volta che l'evento è stato gestito l'agente non torna in centrale ma rimane sul posto ed è disponibile a servire diciamo così altri crimini partendo dalla posizione in cui è arrivato un evento si considera mal gestito se l'agente arriva nel distretto dell'evento oltre 15 minuti dal suo orario riportato nel campo reported date mi viene anche da dire che oltre a a questo un evento è anche mal gestito se non ci sono agenti liberi da mandare ok quindi ci sono vedremo che ci saranno due casi in cui un crimine è mal gestito se l'agente arriva in ritardo oppure se proprio non c'è nessun agente libero disponibile da mandare come output il simulatore dovrà semplicemente restituire il numero di eventi mal gestiti ok andiamo su eclipse e visto che stiamo parlando di una simulazione direi di crearci una classe simulatore nel nostro package model oltre alla classe simulatore avremo anche sicuramente una classe per modellare i nostri eventi attenzione definisco una classe evento modellerà gli eventi della simulazione quindi ben diverso dalla classe event che invece modella le righe del db ok allora partiamo dal simulatore iniziamo a ragionare su che cosa dobbiamo fare iniziamo soprattutto a ragionare sui tipi di evento che ci serviranno ce ne basterà uno ce ne vorranno di più probabilmente qui riusciamo a sviluppare un programma migliore se consideriamo più tipi di eventi un primo tipo di evento che possiamo considerare è l'evento criminoso in sé quello appunto modellato dalla classe event cosa dobbiamo fare quando siamo in presenza di un evento criminoso quindi quando si verifica un crimine nella città di Denver nel giorno selezionato dall'utente beh la prima cosa da fare è selezionare se c'è un agente libero quindi la centrale seleziona l'agente libero più vicino ovviamente qui se nella selezione dell'agente libero più vicino non troviamo disponibilità è un primo modo di dire che il crimine è mal gestito ok se non c'è nessuno disponibile il crimine è mal gestito ovviamente potremmo pensare a soluzioni più sofisticate cioè se attualmente non c'è nessuno aspetto un po' e magari qualcuno nel frattempo si libera e posso mandare lui io direi di mantenere le cose più semplici possibili supponiamo che se non c'è nessuna disponibilità in quel preciso momento della simulazione non mandiamo più nessuno e settiamo direttamente il nostro crimine come mal gestito quindi se non ci sono disponibilità crimine mal gestito ovviamente se invece abbiamo una disponibilità abbiamo un agente libero da poter mandare dobbiamo in qualche modo tenere traccia del fatto che questo agente è da questo momento occupato quindi setto l'agente ha occupato sta servendo questo crimine non potrà servirne altri ok se abbiamo selezionato un agente possiamo pensare a un altro tipo di evento che modelli il fatto che l'agente arrivi sul posto l'agente selezionato arriva sul posto cosa posso fare quando c'è questo tipo di evento beh l'agente è arrivato dovremmo capire quanto durerà questo intervento abbiamo visto dobbiamo simulare una probabilità quindi 2.1 definisco quanto durerà l'intervento e sulla base di questo scateneremo un altro evento che sarà modellerà il termine del crimine quindi quando l'agente avrà finito di servire quel determinato crimine ma lo vediamo dopo l'altra cosa che possiamo fare quando l'agente che dobbiamo fare quando l'agente arriva sul posto è controllare nuovamente se l'evento è mal gestito perché oltre a essere mal gestito se non ci sono disponibilità dal testo capiamo che l'evento è anche il crimine è anche mal gestito se l'agente arriva in ritardo con appunto più di 15 minuti di ritardo quindi anche qui dobbiamo controllare se il crimine è mal gestito a ritardo dell'agente dicevamo abbiamo definito qui quanto durerà l'intervento e quindi avremo un ultimo tipo di evento il crimine è terminato che cosa facciamo quando il crimine è terminato? beh l'agente che ha servito il crimine rimane lì ma dobbiamo liberarlo in un certo senso quindi dobbiamo settarlo come non più occupato 3.1 libero l'agente che torna a essere disponibile questo è un po' l'overview della nostra della nostra simulazione se seguiamo bene questi questi passi siamo sicuri di sviluppare una soluzione ragionevole possiamo ora ragionare sulle strutture dati che ci servono beh partiamo dall'input dell'utente cosa ci dice l'utente? il numero n di agenti iniziali e la data data selezionata con anno mese e giorno quindi supponiamo di avere tre valori anno mese e giorno tutti e tre dei numeri per semplicità poi avremo lo stato del sistema che al solito tipicamente è modellato dal grafo useremo il grafo per calcolare per calcolare le distanze dei vari agenti che devono percorrere avremo la coda degli eventi la nostra solita priority queue di evento senza la parentesi e chiamiamola queue importiamo un po' di cose graph default weighted edge ok e priority queue e le ultime strutture dati che ci servono sono quelle ok sono quelle per l'output direi cosa dobbiamo restituire in output solo il numero di eventi mal gestiti quindi ce la caviamo direttamente con un intero dimentico qualcosa forse sì leggendo il testo sappiamo che dobbiamo sempre avere durante la simulazione da qualche parte l'informazione sugli agenti disponibili in quel momento e soprattutto anche di dove sono questi agenti perché ricordiamo che la centrale sceglie sempre l'agente più vicino al crimine quindi nello stato del sistema dobbiamo prevedere un'altra struttura dati per mantenere questa doppia informazione sugli agenti attualmente liberi e dove sono questi agenti come fare direi che il modo più semplice è usare una mappa una mappa in cui la chiave rappresenti il distretto e il valore rappresenti il numero di agenti attualmente liberi in quel distretto ovviamente all'inizio della simulazione tutti gli agenti saranno nel distretto in cui è presente la centrale ma poi via via questi agenti si sposteranno nei vari nei vari distretti quindi prevediamo una mappa graph map integer integer appunto per modellare questa questa informazione chiamiamo questa mappa agenti quindi questa è la mappa distretto numero agenti libero liberi bene anche le strutture dati le abbiamo adesso dobbiamo definire i classici due metodi di un simulatore quello per inizializzarlo e quello per farne il run partiamo direi con l'init public void ovviamente init parametri che riceverà questo metodo beh tutti gli input dell'utente questi qua quindi integer n integer anno integer mese integer giorno poi un'altra cosa che ci serve e che conosce il controllore e non noi il modello e non noi è il grafo quindi lo copio e lo incollo qui altre cose direi per adesso basta anche perché questa mappa che è sempre uno stato del sistema però ce l'andiamo a costruire noi beh possiamo prendere i parametri che abbiamo ricevuto e salvarli nei nostri attributi del simulatore quindi dis.n uguale n dis.anno uguale anno dis.mese uguale mese dis.giorno uguale giorno e dis.grafo uguale grafo così se ci serviranno poi anche nel metodo run li avremmo a disposizione poi possiamo inizializzare la variabile di output inizialmente i casi mal gestiti saranno a zero e poi durante la simulazione via via che ne incontreremo di mal gestiti andremo ad incrementare questa variabile dis.malgestiti uguale a zero oltre a questo possiamo anche inizializzare la nostra mappa di agenti dis.agenti uguale uguale hash map integer e all'inizio impostiamo zero agenti in tutti i distretti poi andremo a metterne n dove è presente la centrale quindi for integer di in dis punto grafo punto vertex set quindi mi faccio dare tutti i distretti e in ogni distretto metto adesso in fase di inizializzazione zero agenti di virgola zero a questo punto devo scegliere dov'è la centrale e mettere n agenti in quel distretto sempre in fase di inizializzazione ovviamente la centrale il testo ci dice è nel distretto a minore criminalità dell'anno in corso allora qui abbiamo bisogno di fare un'operazione in più verso il db dobbiamo chiedere al db qual è la centrale il distretto a minor criminalità nell'anno selezionato dall'utente minor criminalità vuol dire semplicemente il distretto che abbia avuto il minor numero di crimini durante quell'anno non abbiamo questa informazione nel grafo non l'abbiamo ancora trattata prima in precedenza quindi dobbiamo chiedere al db per forza dobbiamo per cui crearci un'istanza di un dao e chiedere a lui di restituirci un valore intero che rappresenti il distretto a minor criminalità chiamiamolo min d uguale dao punto get distretto min minor criminalità nell'anno selezionato dall'utente poi andremo a crearci questo metodo dato questo distretto ci andiamo a mettere n agenti gli n agenti che sono inizialmente in centrale dist.agenti punto put min d n non mid d ma min d andiamo a crearci questo metodo nel dao e qui la query forse troviamo qui la query più complicata dell'esame se abbiamo seguito il metodo del doppio ciclo for allora andiamo apriamo un attimo il client ok scegliamo il db denver crimes allora dobbiamo selezionare sicuramente un district id from events la tabella events come clausola di where abbiamo quella sull'anno quindi where year di reported date uguale a ad esempio 2015 dobbiamo selezionare il district id con il minor numero di crimini in quell'anno come facciamo a sapere quanti crimini sono avvenuti in quell'anno per un determinato district id beh con una count asterisco conteggi le righe ogni riga è un crimine avendo la count facciamo anche la group by per il district id ho sbagliato di nuovo a scrivere district district ok questa qui ci ritorna delle coppie in cui abbiamo il district id con il conteggio dei numeri del numero di eventi criminosi in quell'anno per ogni distretto ovviamente possiamo portarci dietro in java queste informazioni magari con una classe di supporto che modelli l'id più il count ordinare questa lista che otteniamo in java e prendere la prima occorrenza si può fare c'è un modo più veloce però per farlo direttamente tramite la query il modo per farlo il trucchetto per farlo è innanzitutto ordinare queste coppie per count magari in modo ascendente visto che vogliamo prendere il minore quindi order by count asterisco ask ok noi vogliamo prendere solo il primo quello a minor criminalità lo possiamo fare tramite limit 1 limit 1 fa sì che la query ci restituisca solo la prima occorrenza del risultato ovviamente questo ha senso se prima noi ordiniamo i risultati vedete a questo punto posso addirittura eliminare il count di qui tanto a me interessa solo l'id del distretto e in questo modo tramite un'unica query recupero subito l'id del distretto che mi interessa quindi copio questa query vado in eclipse e la incollo qui sistemiamola togliamo gli slash n spazio punto interrogativo al posto del 2015 spazio spazio poi direi che il pattern è simile a questo quindi lo copio e faccio attenzione a togliere questa set int che non c'è più abbiamo solo più il settaggio dell'anno la if rimane perché anche qui abbiamo un solo valore non è più l'at ma sarà di street id e non sarà più un double ma sarà un intero direi che ci siamo e possiamo tornare nel nostro simulatore e abbiamo impostato la centrale va bene abbiamo inizializzato tutto ci manca la coda creo e inizializzo la coda this punto q uguale new priority q di evento a questa coda dobbiamo aggiungere gli eventi del giorno selezionato dove recuperiamo questi eventi del giorno selezionato di nuovo dal dao quindi dobbiamo ancora fare un po' di lavoro sul dao perché purtroppo abbiamo un metodo che ci restituisce tutti gli eventi ma non un metodo che ci restituisca tutti gli eventi di un giorno quindi possiamo prevedere un metodo di load per tutti gli eventi dato un anno un mese e un giorno per semplicità possiamo copiarci questo metodo perché sarà simile dovremmo solo aggiungere delle clausole di where quindi copio questo metodo e lo incollo qui ne cambio innanzitutto il nome aggiungendo magari un by date e come parametri mi definisco l'anno il mese e il giorno e vado ad aggiungere le clausole di where che mi servono quindi where year di reported date è uguale a punto interrogativo and month di reported date è uguale al punto interrogativo and day di reported date è uguale a punto interrogativo questo è un modo per impostare la data e quindi qui dopo aver creato il prepared statement vado a settarmi i miei parametri settint l'uno sarà l'anno il 2 sarà il mese e il 3 sarà il giorno per il resto il metodo rimane uguale perché stiamo sempre estraendo degli eventi salviamo e torniamo al simulatore quindi nel simulatore inseriamo i nostri eventi però attenzione qui a non confondersi tra la classe event quelle che ci restituisce il dao e la classe evento all'atto dell'inizializzazione della coda io vado a recuperarmi gli event dal dao di dao punto list by date anno mese giorno ma per ognuno di questi event vado ad aggiungere nella coda l'evento relativo perché non avremmo solo noi nella simulazione gli eventi criminosi di per sé ma avremo anche altri tipi di evento tipo la gente arriva sul posto quindi qui non vado a inserire direttamente l'event ma creo un evento che wrappi diciamo così questo event quindi q punto add new evento ovviamente ora questa classe evento è ancora vuota l'abbiamo solo definita ma sicuramente conterrà un enum per discriminare i tipi di evento chiamiamo questa enum tipo evento punto crimine poi che cosa dovrà modellare un evento beh sicuramente la data che è il campo su cui noi ordiniamo gli eventi data che possiamo prendere da e punto get reported date e poi direi che ha senso che questo evento tenga traccia del event rispettivo ok quindi in sostanza adesso la coda ha una serie di evento che si mappano pari pari sugli event di quel giorno abbiamo deciso di creare una classe in più perché appunto dobbiamo prevedere anche altri tipi di evento ok possiamo allora andare a definire questa classe evento che al momento è vuota sicuramente abbiamo detto avremo un enum per discriminare il tipo di evento in fase di ragionamento iniziale abbiamo detto di voler modellare tre tipi di evento il crimine l'agente che arriva sul posto chiamiamo arriva agente e il fatto che il crimine sia gestito terminato quindi questa classe istanze di evento avranno sicuramente un attributo private tipo evento tipo poi abbiamo detto abbiamo la data che sarà il campo su cui faremo l'ordinamento local date time data e poi avremo anche un riferimento alla riga del db all'event che potrà servirci private event senza la o crimine importiamo local date time e al solito usiamo eclipse per farci generare i get e i setter il costruttore ok e cosa molto importante questi eventi finiranno nella priority queue quindi dobbiamo definire il il comparable dobbiamo implementare comparable quindi implements comparable di evento implementiamo il compare to in questo caso abbiamo una data estratta dal db quindi usiamo questo campo che abbiamo mappato su un local del time per fare i confronti e possiamo addirittura usare semplicemente il compare to della classe local del time quindi return this punto data punto compare to o punto get data tutto lì salviamo torniamo di qua e dovremmo essere a posto dobbiamo anche importare tipo evento va bene abbiamo l'inizializzazione della simulazione ci manca il corpo il run public questo metodo run per semplicità potrebbe direttamente ritornare il valore di output che ci interessa valore di output che è uno solo un intero il numero di casi mal gestito quindi al fondo della simulazione avremo sicuramente una return this punto mal gestiti poi il pattern di programmazione è sempre lo stesso estraggo un evento dalla coda finché ce ne sono e lo eseguo while e uguale q punto poll diverso da null vado avanti ed eseguo e visto che abbiamo più tipi di evento la prima cosa da impostare è lo switch case per capire che tipo di evento stiamo simulando quindi switch e punto get tipo avremo tre casi case crimine break case non mi ricordo più come li abbiamo chiamati arriva agente due punti break e case gestito perfetto partiamo dal caso direi che possiamo partire ma sì è indifferente partiamo pure da facciamoli pure in ordine partiamo dal caso crimine quindi system punto out punto print line sempre utile mettere delle stampe per vedere poi la nostra simulazione se va avanti in modo in modo ragionevole nuovo crimine e magari ne stampiamo anche l'id del crimine quindi più e punto get crimine punto l'id del crimine dato dal campo incident id ok prima cosa da fare cerco se c'è un agente libero anzi più che se c'è un agente libero cerco l'agente libero più vicino in sostanza devo andare a capire se c'è un agente libero e soprattutto qual è il distretto da cui parte questo agente libero perché ovviamente le distanze le calcoliamo dai distretti quindi potrei pensare di avere una variabile chiamiamola partenza che imposto a null che mi rappresenti il distretto da cui l'agente libero se c'è parte partenza uguale supponiamo di avere un metodo cerca agente che andremo poi a definire che mi dia in output il distretto da cui parte l'agente l'agente libero se c'è ovviamente l'agente libero se non ci sarà l'agente libero potremmo prevedere che questo metodo ritorni null ovviamente cerchiamo l'agente un agente da mandare a partire dal distretto del di dove è avvenuto il crimine quindi e.get crimine .get district id ok c'è un crimine in questo id dammi il distretto in cui c'è l'agente libero più vicino se partenza è diverso da null vorrà dire che c'è un agente libero in partenza altrimenti non c'è nessun agente libero al momento cosa sta a significare questo crimine mal gestito siamo nel punto 1.2 allora partiamo dal caso più semplice c'è un crimine mal gestito lo stampiamo system.out .println crimine magari ristampiamo l'id così abbiamo un'indicazione che il crimine con questo determinato id è mal gestito gestito contestualmente andiamo a incrementare la variabile che tiene traccia del nostro output dis punto mal gestiti più più se invece c'è un agente libero la prima cosa da fare è settare l'agente come occupato per fare questo ho la mia mappa di agenti e sostanzialmente io devo decrementare di 1 il numero di agenti liberi in nel distretto partenza ok mi sembra abbastanza facile da capire quindi dis punto agenti punto put partenza dis punto agenti punto get partenza meno 1 io gli agenti non li considero individualmente con nome e cognome ne ho preso uno dalla mischia e quindi lo tolgo dagli agenti liberi attualmente in partenza detto questo dovrò capire quanto ci metterà questo agente libero ad arrivare sul luogo del crimine per poter poi scatenare l'evento arriva agente il testo ci dice che ogni agente si muove con velocità costante di 60 km orari e la distanza tra i distretti la possiamo recuperare dal nostro grafo quindi cerco di capire quanto ci metterà l'agente libero ad arrivare sul posto definiamoci una variabile distanza e qui abbiamo due casi in un caso quello più facile l'agente libero era già nel distretto in cui si è verificato il crimine in questo caso la distanza è 0 se partenza è uguale al distretto in cui si è verificato il crimine distanza allora sarà 0 la gente arriva istantaneamente sul posto ovviamente una semplificazione ma va bene altrimenti dove prendiamo questa distanza la prendiamo dal grafo tutti i distretti sono collegati con tutti quindi possiamo fare dis.grafo .get edge weight di quale arco l'arco che va quindi dis.grafo .get edge da la mia partenza la partenza dell'agente libero e il distretto del crimine e .get crimine .get district id questa è la mia distanza ok 0 0 perché è un double data la distanza possiamo calcolarci quanto ci metterà la gente ad arrivare long seconds più facile forse calcolare i secondi perché poi useremo un metodo di local day time che ci permette di aggiungere direttamente i secondi a una determinata data senza dover dividere tra ore minuti eccetera beh possiamo semplicemente usare le leggi della fisica quindi long distance per 1000 diviso 60 diviso 3.6 dobbiamo fare qualche conversione per riportarci ai secondi distanza non distance ma banalmente usiamo la formula velocità uguale spazio fratto tempo se la distanza è 0 i secondi contestualmente saranno anche 0 cioè l'arrivo sarà immediato ma sia che sia 0 sia che sia maggiore di 0 possiamo schedulare l'evento di arriva agente scheduliamo questo evento mettendolo nella coda this.q .add new evento il tipo sarà diverso arriva agente quando viene schedulato questo questo evento beh a partire dalla data del crimine ci aggiungiamo i secondi che l'agente libero ci impiega ad arrivare e punto get data punto plus seconds seconds e ci portiamo ancora dietro il crimine che potrà servirci successivamente questo è quello che facciamo nel caso crimine che è in realtà il caso più complicato quindi siamo già a buon punto ci manca solo la definizione di questo metodo cerca agente per cercare se c'è il me l'agente più più vicino al al crimine la ricerca della gente più vicino si fa nel solito modo per trovare minimo e massimo nei programmi diciamo così quindi mi definisco una distanza che dobbiamo trovare il minimo quindi imposto a un valore estremamente alto double punto max max tutte le volte che troverò una distanza minore andrò a sovrascrivere questa questa distanza poi dovrò avere anche una variabile distretto che impostiamo inizialmente a null che sarà poi il mio valore di ritorno cosa posso fare qui beh semplicemente ho la mia mappa di agenti con i sette distretti e gli agenti liberi in ogni distretto vado a scorrere questi questi distretti vado a vedere se ci sono agenti liberi e contestualmente controllo anche la distanza dei distretti dal dal district id quindi for integer d in this punto agenti punto keyset anche qui dobbiamo stare attenti a controllare il caso in cui il mio d sia uguale a district id perché se questo è il caso ovviamente non ho un peso nel grafo e quindi devo impostarmelo devo impostare questa distanza io quindi if district id punto equals d la distanza sarà 0 diciamo così 0.0 e sicuramente essendo la distanza 0 è quella che mi interessa cioè la gente è vicinissimo distretto uguale d ma questo potrebbe anche non essere valido cioè potrebbero non esserci agenti disponibili in d quindi io prima di effettivamente sovrascrivere la distanza migliore con 0 devo chiedermi if this punto agenti punto get id deve essere maggiore di 0 altrimenti è ovviamente la seconda if non la posso non la posso fare quindi se in d il distretto che sto scorrendo ci sono agenti liberi e se il distretto d coincide esattamente col distretto in cui è avvenuto il crimine beh sono nel caso fortunato la distanza è 0 e quindi posso prendere un agente da lì else potrebbero non essere uguali i due distretti quindi if qui c'è il caso di controllo this punto grafo punto get edge weight this punto grafo punto get edge district id d se questa distanza è minore della distanza migliore che ho trovato fino ad adesso sovrascrivo e tengo traccia del del risultato quindi distanza è uguale a tutta questa roba qui e il mio distretto è d quindi dobbiamo solo fare attenzione anche a considerare il caso in cui district id e d siano equals ovviamente se questo succede e se c'erano agenti liberi devo tenermi traccia di questa cosa e ovviamente l'agente lo prenderò da lì perché è sicuramente più vicino essendo la distanza zero ok questo è il metodo e possiamo andare avanti con gli altri case allora cosa facciamo quando arriva un agente a gestire un crimine l'abbiamo definito prima dobbiamo capire quanto durerà l'evento criminoso e anche controllare se il crimine è mal gestito per un ritardo dell'agente impostiamo una stampa iniziale diciamo arriva agente per il determinato crimine e definiamo la durata del crimine long duration uguale supponiamo di avere un metodo get durata da cosa dipende la durata di un crimine c'è scritto nel testo dipende dipende da questo campo da offense category id va bene glielo passiamo come parametro e punto get crimine punto get offense category id dopo definiremo questo metodo ma avendo questo metodo possiamo schedulare l'evento di fine del crimine quindi this punto queue punto added ovviamente la durata la duration sarà di nuovo in secondi così possiamo usare plus second sulla data new evento tipo evento punto gestito virgola e punto get crimine punto get data no scusate non è get crimine ma è direttamente get data punto plus seconds duration e ci riportiamo sempre dietro il nostro evento criminoso forse ho sbagliato qualche parentesi questa mi sa che è qua sì va bene ma non basta perché dobbiamo anche controllare se il crimine è mal gestito è mal gestito se l'agente è arrivato con più di 15 minuti di ritardo con la classe local data è abbastanza facile fare questo controllo if e punto get data quindi la data dell'evento quindi la data di quando l'agente è arrivato sul posto is after e dopo la data del crimine più 15 minuti se questo è vero vuol dire che è arrivato con un ritardo maggiore di 15 minuti e punto get crimine punto get reported date punto plus minus 15 se questo succede possiamo copiare la stampa di qui il crimine è mal gestito dis punto mal gestiti più più anche l'arriva agente è praticamente finito ci manca anche qui un metodo get durata che andiamo a definire allora riguardiamo un attimo cosa ci dice il testo se offense category d è uguale a all other crimes dobbiamo simulare una probabilità quindi 50% un'ora 50% due ore per tutti gli altri casi due ore va bene if offense category id punto ah ok punto equals other crimes other crimes devo simulare una probabilità si fa sempre più o meno nello stesso modo tiro a caso un numero tra 0 e 1 e vado a vedere in che intervallo cado quindi random r uguale new random if r punto next double esempio maggiore di 0.5 ritornerò due ore li vogliamo in secondi perché poi usiamo direttamente plus seconds quindi long punto value of 2 per 60 per 60 così ottengo direttamente i secondi in due ore else ritorno un'ora 1 per 60 per 60 altrimenti ancora siamo nel caso in cui il crimine durerà esattamente due ore quindi return copio da qui ottimo siamo quasi alla fine finalmente fare le simulazioni è facile dal punto di vista dell'algoritmo ma macchinoso è anche forse più lungo del sicuramente più lungo come linee di codice della ricorsione abbiamo l'ultimo caso che in realtà però è il più semplice quindi quando è un crimine è gestito è terminato cosa devo fare devo liberare la gente che rimane in quel distretto lì ma torna ad essere disponibile quindi stampa crimine l'id del crimine più gestito come faccio a liberare la gente agisco sulla mappa agenti dis.agenti punto put metto un agente libero nel distretto in cui è stato gestito il crimine quindi e.get crimine punto get district id virgola ovviamente devo sovrascrivere il valore quindi prendo il valore che c'era prima e ci aggiungo un 1 dis.agenti punto get e.get crimine punto get district id più 1 e dopo tanta fatica forse dico forse perché dobbiamo ancora provarlo siamo giunti alla fine della simulazione colleghiamo questo simulatore al nostro controller e quindi apriamo il controller e nel metodo do simila andiamo a farci le nostre cose dobbiamo prima di tutto recuperare gli input ulteriori dell'utente quindi l'utente può specificare l'anno il mese il giorno e il numero n di agenti facciamo anche una clear dell'area di testo all'inizio abbiamo il solito controllo errori quindi ad esempio n deve essere un numero parse int txtn.get text e se c'è un errore lo facciamo presente quindi number format exception e xd result punto append text n formato n non corretto reto poi abbiamo gli altri tre parametri quindi l'anno come si chiama il box box anno punto get value il mese il giorno eh sì poi dobbiamo anche popolare queste tendine quindi un'ulteriore cosa noiosissima da fare ma lo andremo a fare dopo se uno di questi è null stampiamo un errore quindi se anno uguale uguale a null or mese uguale uguale a null or giorno uguale uguale a null txt result punto append text seleziona tutti i campi reto ops ok adesso un ulteriore controllo errore se proprio vogliamo essere precisi è quello che sia una data corretta anche perché per semplicità noi andiamo a inserire i giorni come dei numeri quindi avremmo numeri da 1 a 31 ma ovviamente se selezioniamo il 31 febbraio abbiamo sbagliato qualcosa quindi possiamo anche controllare questo volendo ovviamente è proprio un controllo aggiuntivo che anche se non c'è per in ottica esame non fa niente ma facciamolo usiamo la classe local date e in particolare il metodo off anno mese giorno se noi chiamiamo questo metodo off con dei parametri non corretti questo metodo da documentazione scatena un'eccezione date time exception e e possiamo stampare un messaggio d'errore va bene se siamo qui possiamo simulare finalmente quindi facciamo una stampa iniziale txt result punto append text simulo con più n più agenti e poi possiamo direttamente usare il metodo run del simulatore se vogliamo proprio fare i precisini passiamo dal modello quindi nel modello definiamoci un metodo public che restituisca direttamente l'output quindi un intero simula integer anno integer mese integer giorno integer n ok in cui ci creiamo il simulatore inizializziamo la simulazione perfetto e ritorniamo return sim punto run e grazie a questo metodo simula del modello possiamo collegarlo al controller quindi txt result punto append text stampiamo stampiamo slash n crimini mal gestiti due punti più dis.model punto uff simula dicevamo manca ancora il popolamento del delle due tendine per mese e giorno per semplicità andiamo estrarre questi valori dal db quindi apro un attimo il dao e oltre al mio metodo getanni quindi ne prevedo due praticamente uguali per ottenere i mesi e i giorni vado a cambiare solamente la funzione mysql quindi qui sarà month e qui sarà day e a questo punto questi box conterranno degli interi e qui nel send model vado anche a popolare le tendine box mese get items punto add all this punto model punto get ah mi manca ancora il metodo nel modello get mesi e che vanno a richiamare dis.dao punto get mesi e dis.dao punto get giorni non ritorniamo degli interi ma delle liste di interi forse ci siamo farà molto difficile che tutto va di il verso giusto al primo run ma noi ci proviamo andiamo sul main lanciamo creiamo il grafo ad esempio 2014 va bene il primo punto ci siamo selezioniamo un mese potremmo anche ordinarli ma al momento lasciamo così anche qui potremmo ordinare i giorni proviamo con n uguale a 9 simula sembra funzionare pazzesco abbiamo 77 crimini mal gestiti e qui vediamo la lista di stampe dei crimini per il primo marzo 2014 quindi abbiamo gli eventi di nuovo crimine come vedete qui abbiamo sequenzialmente ma per caso nuovo crimine con questo id questo crimine viene assegnato a un agente che arriva in questa in questo preciso istante e in questo altro istante il crimine con lo stesso id è mal gestito quindi probabilmente l'agente è arrivato in ritardo però sembra funzionare magari ci sono errori e mi farete notare qualche imperfezione nella risoluzione sicuramente mi sono perso qualcosa però ripeto nel punto 2 andiamo a correggere diciamo così il ragionamento che seguite quindi quando il ragionamento è scusate il gioco di parole ragionevole anche piccole dimenticanze piccoli errorini di interpretazione non influiscono poi sul voto finale diciamo così l'altra cosa che vi vorrei far notare è che questa simulazione era particolarmente lunga ma di solito le simulazioni sono sempre un po' più difficili degli esami ok quindi così mi spaventiamo bene nelle simulazioni ma poi agli esami siamo più bravi quindi questa effettivamente era molto lunga come simulazione cerchiamo all'esame di fare una simulazione più più corta ok questo conclude questo video e anche i video di quest'anno da parte mia vi ringrazio per la vostra pazienza nel seguire le mie lezioni e ci vediamo presto all'esame grazie a tutti e buona buona giornata